Putin le ha garantito che continuerà a fornire il gas all'Italia, ai prezzi stabiliti e in questa telefonata ha visto degli spiragli per un negoziato più generale di pace? Alla seconda domanda se ho visto degli spiragli per la pace la risposta è no e alla prima domanda ha detto che continuerà a fornire le forniture io non ho discusso, non ho risposto, non ho fatto nessuna osservazione ma questa è la situazione attuale con tutti i paesi tranne quelli che sono chiaramente come dire attaccati dalla Russia come la Finlandia e anche la Bulgaria per un giorno è stata sospesa la fornitura di gas.